Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno celebra la natività con un inedito e spettacolare presepe realizzato nell'atrio della caserma Vincenzo Giudice di Via Duomo nel centro storico di Salerno. Un presepe artigianale realizzato dal finanziere appuntato scelto qualifica speciale Franco De Luca che con appassionato e certosino lavoro ha realizzato il mistero della natività una delle nostre tradizioni più antiche. Un manufatto artigianale con grande attenzione ai dettagli dove spicca la qualità, l'attenzione ai particolari non solo della struttura, i paesaggi, le case, gli interni, la grotta ma anche nei personaggi che danno vita alla rappresentazione della natività che più che mai durante questo periodo di pandemia ha un significato importante. Un capolavoro artigianale realizzato da un finanziere appuntato scelto qualifica speciale Franco De Luca con la passione del presepe che offre la possibilità a quanti durante questo periodo che accompagna le feste natalizie di visitare la caserma di Via Duomo per ammirarne la realizzazione. Un plauso al militare dal colonnello Oriol De Luca, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno. Abbiamo voluto dare forma alla sostanza di tutto un anno, tutto un anno celebrando anche in questo modo l'arrivo delle festività. Devo dire un grande plauso al mio militare, all'appuntato De Luca appunto, per la sua pazienza, per la sua certosina o impegno nel realizzare quest'opera che è patrimonio di tutti perché mi piace ricordare che la nostra caserma è aperta fino alle nove e i passanti che sono qui ho visto più di una volta qualcuno fermarsi per ammirarlo e questo anche a beneficio della città e dei salernitani tutti.